Ryuma, il dio della spada. Colui che uccise un drago nei cieli di Wano e che fu venerato nei secoli dei secoli per le sue incredibili abilità. Il primo spadaccino della storia ad annerire una spada, nonché uno dei soli due che ci sono riusciti finora. Tutt'oggi le gesta di questo formidabile guerriero riecheggiano nell'aria e si fanno strada attraverso la sua immortale leggenda. Da giorni ormai il nome di Ryuma è nella bocca di tutti i fan di One Piece, per ovvi motivi, visto che è uscito su Netflix il 21 gennaio scorso l'adattamento anime del manga one shot di Oda, Monsters. Ma praticamente tutti dopo aver visto Monsters su Netflix si sono chiesti ma il Ryuma di Monsters è lo stesso Ryuma di One Piece? E gli avvenimenti di Monsters si collegano a One Piece rendendolo di fatto un vero e proprio prequel? Allora vi prometto che arriverò a rispondere a queste domande ma prima di farlo dobbiamo porcene un'altra. Chi è Ryuma in One Piece? Shimotsuki Ryuma era un samurai leggendario e famoso in tutto il mondo, vissuto secoli fa durante l'epoca del paese d'oro di Uano. È noto per due macro caratteristiche, l'aver ucciso un drago nei cieli di Uano e il suo appellativo di Dio della Spada, conferitogli dalla gente per via delle sue eccelse abilità. A tal proposito è la prima persona nella storia di One Piece ad essere riuscita a rendere nera una spada. Tutt'oggi non sono chiare le dinamiche necessarie affinché ciò avvenga ma oltre a lui soltanto Dracul Mihawk Occhi di Falco è riuscito in tale impresa. Nemmeno spadaccini di altissima fattura ci sono riusciti come Silver's Ray Lee o Kozuki Oden, a dimostrazione dell'unicità della cosa. Ma una cosa è certa, Ryuma padroneggiava sicuramente il Ryuo, ovvero il modo in cui viene chiamato l'acchi dell'armatura avanzato a Uano. La sua spada, Shusui, una Owazamono, è considerata tuttora il tesoro nazionale di Uano, tanto che il furto della stessa da parte di Ghekomoria è stato considerato un avvenimento di gravissima portata e quando Zoro l'ha fisicamente riportata alla sua ubicazione, il paese ne ha preteso la restituzione. Ryuma morì a 47 anni per una malattia e diversi secoli dopo fu al centro di uno scandalo. Il pirata Ghekomoria profanò la sua tomba, portando con sé il cadavere Shusui. Durante l'approdo dei Mugiwara Thriller Bark, l'anima dello scheletro Brook fu impiantata nel corpo senza vita di Ryuma, che divenne quindi uno zombie. Fu sconfitto da Zoro in duello e donò proprio a lui Shusui, come segno di riconoscimento della sua forza. Ecco, questo è tutto ciò che sappiamo di Ryuma in One Piece attualmente, ma adesso che abbiamo parlato di lui, possiamo rispondere alle due domande iniziali? Non ancora, bisogna fare un altro piccolo passo. Tutti noi ovviamente sappiamo benissimo che cos'è One Piece, visto che ormai è entrato a far parte della nostra quotidianità. Ma che cos'è Monsters? Monsters è una delle storie autoconclusive scritte da Oda a partire dal 1992 fino al 1996, tutte facenti parte della raccolta Wanted, scritta quindi prima di One Piece. Veniamo quindi al dunque, il Ryuma di Monsters è lo stesso Ryuma di One Piece? La risposta è sì. Ma quindi Monsters è un prequel di One Piece e quindi è canonico? La risposta è no. E a fornirci queste risposte è proprio il maestro Oda. Lo ha fatto nelle SBS del volume 47. Sostanzialmente dice che si tratta dello stesso personaggio e che avrebbe tranquillamente ignorato questa cosa, ma è comunque felice del fatto che un fan l'abbia notato. Precisa poi che nel mondo di One Piece, Ryuma è morto di malattia. Fa quindi una netta distinzione tra i due mondi e dice espressamente di considerare distinte e separate le storie di Wanted e One Piece. Ecco, ma perché molti fan hanno iniziato a pensare che Monsters potesse essere canonico? Qual è stato l'evento scatenante che ha reso possibile questa idea? Beh, ma naturalmente la scena tra Ryuma e Zoro a Thriller Bark, riproposta dopo la fine dell'episodio. Molti hanno pensato che quello potesse essere un collegamento che rendesse canonici gli avvenimenti visti poco prima. Ma in realtà non è così. Ragazzi, quella è palesemente una mossa di marketing. Monsters è uscito, ripeto, su Netflix da pochi giorni. Ha bisogno di essere venduto e quindi è normalissimo che gli autori strizzino l'occhio a One Piece, perché One Piece vende tantissimo. E vi dirò di più, anche se in futuro dovessero dire il prequel di One Piece, quindi anche se dovessero effettivamente chiamarlo in questo modo, la realtà dei fatti sarebbe totalmente diversa perché il maestro Oda si è già espresso su questa questione e ha palesemente ed espressamente detto che sono due storie separate. Tant'è che fa proprio la differenza tra i due mondi quando ne parla. Ecco, ma detto questo, che cosa ne penso di Monsters? Vi dico che per rispondere a questa domanda dovrò inevitabilmente fare degli spoiler. Allora, a me è piaciuto veramente tantissimo, sia a livello di stile, di disegni, sia a livello di animazioni, di colori, tutto. E devo dire, devo sottolineare che la mia scena preferita è stata quella in cui Ryuma ha praticamente fatto finta di dare un colpo di spada a Flair dicendole non ti voltare, fuggi da questo paese. Questo solamente per non farle vedere la triste realtà, ovvero che Cyrano, quello che fino a poco tempo prima lei aveva creduto un eroe, per anni lo ha creduto un eroe, alle sue spalle si stava prendendo gioco di lei e la stava truffando, stava truffando lei e tutto il paese. Ecco, quella è stata una scena molto bella anche perché c'è poi questa esplosione di colori con i due personaggi alle spalle di lei giù totalmente in mood depressione che ridono in maniera sguainata. Ecco, quella è stata una scena secondo me magistrale e mi ha dato delle vibes alla Devil May Cry Baby, come colori, come sound, mi è piaciuta tantissimo. Dal momento che questa, come dicevo poc'anzi, è una storia che è stata scritta prima di One Piece, si possono facilmente notare gli elementi che contraddistinguono il maestro Oda, in primis lo stile narrativo, e in questo abbiamo uno dei punti cardine del maestro Oda, della sua narrativa, il plot twist. Qui abbiamo due personaggi che vengono totalmente ribaltati da capo a piedi. All'inizio noi vediamo Cyrano come l'eroe della situa, quello che viene oltraggiato da un moccioso, cioè Ryuma, mentre alla fine della storia la situazione è completamente capovolta. Cyrano è il truffaldino, è colui che verrà per sempre ricordato come un infame bugiardo, mentre Ryuma è quello che verrà sempre ricordato come l'eroe che ha salvato il paese dal malvagio Cyrano e dal drago. Ma non solo questo, anche a livello di tratti estetici, alcuni personaggi di Monsters li rivediamo praticamente nudi e crudi in One Piece, soltanto con dei nomi diversi e con qualche piccolo dettaglio diverso. A cominciare da Cyrano, che è spiccicato, identico a Mioke, è palese che Oda per disegnare Mioke abbia preso spunto dal suo vecchio personaggio. Rimanendo su questa linea abbiamo anche Flair, che nell'anime non si nota perché hanno un pochettino modificato lo stile dei disegni di Oda, ma se vi andate a leggere il One Shot, Flair è praticamente identica a Kaia. E poi, ciliegina sulla torta, Ryuma è praticamente il mix perfetto tra Zoro e Luffy, perché ha l'aspetto di Zoro ma si comporta esattamente come Luffy, tant'è che nell'apertura del One Shot, se ve l'ho andata a leggere, c'è proprio una sua immagine con il dito mignolo infilato nel naso, quindi è praticamente la fusione tra i due. Quindi, per concludere, non solo ho amato tantissimo l'adattamento anime di Monsters, ma sono anche felice che altre opere del maestro Oda vengano finalmente prese in considerazione al punto da ricevere degli adattamenti anime, una storia come questa che è stata scritta negli anni 90, ben prima di One Piece. Sono veramente contento di questo. Detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto, ma soprattutto spero che vi abbia chiarito le idee, perché ho già visto diversi fan sfegatati di Miok cominciare a prendere gli eventi di Monsters per canonici e iniziare a dire «Eh, avete visto? Ryuma non è al livello di Miok, non è neanche la metà di Miok». Quindi cerchiamo quantomeno di mettere le idee a posto, rilassiamoci, restiamo lucidi e facciamo una distinzione tra queste due opere. Io vi ringrazio Picciotti per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima e sayonara! Bene Picciotti, il video termina qui, speriamo che vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invitiamo a mettere un like, condividerlo e iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto, attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. Sayonara!